L'acqua che sgorga dal nostro acquedotto del Gran Sasso, scoperto anni fa durante la realizzazione delle gallerie, merita indubbiamente un riconoscimento particolare per la qualità e quindi per le caratteristiche organolettiche che la caratterizzano. È per questo che la Gran Sasso Acqua ha pensato di far certificare dal Ministero dell'Ambiente la nostra acqua come prodotto tipico. L'iniziativa parte dalla volontà di invogliare gli aquilani tutti a consumare l'acqua di rubinetto, rassicurandoli appunto sulla qualità della stessa, garantita dalle analisi microbiologiche effettuate periodicamente dall'Università degli Studi dell'Aquila. Abbiamo voluto lanciare questa iniziativa perché da un po' di tempo noi sappiamo che i ristoratori che utilizzano esclusivamente l'acqua del Gran Sasso hanno un sistema di naturizzazione dell'acqua e danno un prodotto tipico per l'acqua del Gran Sasso a chi in qualche modo utilizza la somministrazione che loro mettono a disposizione. È un'iniziativa importante perché noi daremo la possibilità di avere gratuitamente delle bottiglie che le vedete qui, molto particolari e eleganti per l'acqua gassata e per l'acqua liscia con il logo dell'azienda e con dietro stampate le qualità organolettiche. Quindi noi diamo ai ristoratori la possibilità di dare un prodotto tipico a tavola così come esce direttamente dal rubinetto. Quindi è una cosa molto bella, originale. L'acqua che scorre dai rubinetti delle nostre case è talmente salubre che dobbiamo abituarci a consumarla sia quando siamo in casa che quando andiamo al ristorante. Queste le parole del presidente della Gran Sasso Acqua che entusiasta dell'iniziativa, in una battuta, ci fa scoprire quanto fosse ingiustificata l'abitudine di molti aquilani di andare a cogliere l'acqua dalla fontanella lungo viale con le maggio, piuttosto che in altre zone della città poiché è la stessa che scorre anche dai nostri rubinetti di casa. Avvenuta oggi la consegna delle prime bottiglie a marchio GSA ai ristoratori intervenuti in gran numero al convegno di presentazione dell'iniziativa che si è tenuto nella nuova sede della Gran Sasso Acqua in via Ettore Moschino. Una cosa che mi ha fatto molto piacere è anche questa iniziativa delle bottiglie con le proprietà organolettiche e faccio i complimenti. Grazie. 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 Grazie.